Noi non abbiamo dato subito senso, voce a un primo episodio, un secondo episodio. Ora si sono sommati e è bene che tutti sappiano che cosa sta succedendo. Contesta i cibi serviti nelle scuole dell'infanzia fanesi, Sergio Ferri, componente del comitato Mensa che denuncia la mancanza di prodotti di stagione e a chilometro zero. Ho la certezza che il prosciutto cotto contenga polifosfati, lattosio, saccarosio, cose certamente non genuine per i bambini. Poi questo è un menù servito il giorno 21 maggio, c'erano riso al pomodoro, polpette di legumi, insalata mista. Sette bambini su venti non hanno mangiato il primo, sei su venti non hanno mangiato il secondo, quattro su venti non hanno mangiato il contorno. Il che significa che almeno una media di 13 bambini quel giorno non hanno mangiato. Poi si decantano tanto i benefici della frutta e dei prodotti bio, della frutta di stagione, frutta e verdura di stagione e anche del chilometro zero. Allora sono quasi due settimane che ai bambini vengono servite pere e mele. Lasciamo stare su come sono conservate, ma diciamo che sono state raccolte ottobre dell'anno scorso 2014, quindi quale stagione, che frutta di stagione. Poi adesso che si possono servire meloni, pesche, albicocche, susine, fragole, di tutti questi frutti solamente le fragole le hanno avute un giorno e solamente due a testa. Per quel che riguarda la verdura a chilometro zero, prosegue, fagiolini e spinaci sono surgelati. Non ho mai sentito che dei contadini nostri a chilometro zero surgelino i loro prodotti. Gli adulti hanno assaggiato invece questi pasti? Assolutamente sì, io stesso ho assaggiato questi pasti e devo dire che il giorno che sono stato c'era una specie di zuppa minestrone e ho mangiato benissimo. Quindi non è che voglio gettare fango su tutta l'istituzione, dico solamente che ci sono delle cose da aggiustare e ogni qualvolta noi del Comitato Mensa facciamo presente queste cose che vanno aggiustate, quelli dei servizi educativi dicono ah no, mi spiace, c'è l'appalto, non si può aggiustare niente. So che l'assessore ai servizi educativi del Comune di Fano è una persona che crede molto nel suo lavoro, che è anche competente, quindi lo pregherei vivamente di controllare. L'appello è stato accolto dall'assessore ai servizi educativi Samuele Mascarin che dà alcune rassicurazioni sull'argomento. I prodotti di frutta che noi proponiamo nelle mense scolastiche sono biologici, comprese le pere, comprese le mele. Raramente ricorriamo alla frutta convenzionale solo quando il volume della frutta a disposizione di stagione non è sufficiente per rispondere al fabbisogno delle nostre mense. Io lo ricordo, noi ogni giorno, 5 giorni alla settimana, dobbiamo produrre 2000 pasti e questi sono i numeri sui quali anche da un punto di vista organizzativo ci dobbiamo muovere. Quindi può capitare qualche volta, ma è abbastanza raro, che si debba ricorrere alla frutta convenzionale. Cerchiamo di alternare i cibi, ha proseguito l'assessore, proponendo anche ciliegie, fragole, meloni e quindi prodotti di stagione. Ha precisato inoltre che il fornitore dei prodotti ortofrutticoli, che attualmente fornisce le mense, è lo stesso degli ultimi anni, che non è collegato con il nuovo servizio di riflessione gestito dalla Dusman, colosso tedesco che si è aggiudicato il bando. La cosa importante però è in questo senso il sollecito che arriva anche da qualche genitore, è importante, ne faremo tesoro, poter condividere e concordare insieme, come solitamente facciamo dal resto con i comitati mensa, quindi con i genitori e con gli insegnanti, quello che è il menu. Infatti il menu che di settimana in settimana proponiamo viene di volta in volta rimodulato in base anche alle esigenze e le richieste che vengono formulate anche dalle famiglie, giustamente. Ulteriore elemento di verifica e di collaborazione con i genitori sarà la messa online di tutti i menu in maniera preventiva, in modo da poter verificare durante la settimana quali saranno i cibi che verranno serviti negli asili frequentati dai figli. E questo sarà un elemento non solo di trasparenza ma anche di costruzione, di una condivisione, di una collaborazione con i genitori e con le famiglie rispetto alla formulazione del menu e credo che questo possa essere una buona garanzia anche per i genitori che giustamente richiedono il massimo dell'attenzione per quelli che sono i prodotti che arrivano a tavola.